Vetrate scorrevoli per verande sono la soluzione migliore? Ciao sono William Bisacchi di Infissi Bisacchi dal 1973. Ci occupiamo di infissi per abitazioni private con il sistema Bisacchi. Oggi voglio rispondere a questa domanda è appunto se nelle vetrate per verande gli infissi scorrevoli sono i migliori. Ecco per rispondere a questa domanda bisognerebbe capire prima di tutto se è una veranda al piano terra o un piano rialzato e poi bisognerebbe capire anche la dimensione perché ogni tipologia di apertura ha dei pro e dei contro. Può avere il pro magari lo scorrevole che non ti dà fastidio dentro, può avere il pro che posso fare dimensioni molto grandi avendo pochi montanti, può costare meno in alcuni casi e può costare di più in altri oppure può avere l'handicap magari della pulizia sul lato esterno perché se sono a piano terra non avrò nessun problema ma se sono piano primo o ancora peggio se sono all'ottavo piano magari l'infisso scorrevole non è proprio la soluzione migliore da adottare in questi casi. Proprio perché l'argomento è complesso ed è vario e spesso chi ti deve vendere questa veranda a tutti gli interessi per fare i propri e non i tuoi ho creato un sistema di consulenza con il sistema Bisacchi dove posso aiutare tutte quelle persone dove io non produco gli infissi direttamente perché non posso servire tutta l'Italia, io normalmente lavoro qui nella Romagna principalmente e lo posso fare senza nessun conflitto di interesse quindi consigliarti la soluzione migliore facendo attenzione a non farti prendere fregature. Se vuoi saperne di più vai su www.blogbisacchi.it e richiedi la tua consulenza personalizzata. Ciao e al prossimo video! iscriviti al canale!